Terza ed ultima parte del bianco-lorosso TB Sport con il mio ospite Davide Lattanzi. Davide, sabato c'è Bari Nocerina. Una partita mi dicevi che un po' ti manca. Sì, ma in 32 anni non... Ti manca non per la bellezza della partita. Non l'ho mai vista la Nocerina al San Nicola. Vabbè, ci sarà una prima volta pure per questo. Però un po' fa tristezza parlare di Bari Nocerina. Però al di là di tutto bisogna cercare di vincere. Continuo a dire che secondo me è un campionato aggredibile. Lavorando un po' sulla squadra, dandole un po' di ritmo, anche di condizione fisica migliore, non credo che il Bari sia inferiore. Sino a questo momento Davide a me personalmente non sta convincendo il 4-3-3 di Torrente. Anche proprio sul piano del gioco e della manovra. No, no, infatti la manovra è molto farraginosa e lenta. Però è anche vero che, anche pensando a qualche variante, è difficile valutarne. Perché poi alla fine è stata una squadra costruita su quel modulo. Perché oggi, che ne so, immaginare un Bari con un 4-4-2, probabilmente ci mancano gli esterni. Anche se i giocatori tipo Bogliasino o Forestieri in questo modulo stanno facendo un po' di fatica. Sì, stanno facendo fatica. Davide, alle nostre spalle abbiamo Farias, uno dei giocatori che affronteremo tra l'altro sabato. Quindi ascoltiamo queste interviste raccolte da Nocirina Channel. Dico, archiviata la brutta sconfitta con l'Ascoli, si va su un altro campo difficile. Bari, informazione rimaneggiata, però non avete paura di nessuno. No, noi andiamo a Bari per fare i punti. Uno, due o tre. Andiamo lì per provare di vincere come facciamo sempre. Questa Nocirina che alterna momenti di bel calcio a fasi di stanca della partita. Come ti spieghi questi cali? Ci sta. La stanchezza, il caldo, queste cose ci stanno. All'inizio stiamo bene, poi alla fine ci manca la lucidità, però proviamo sabato di provare a giocare bene dall'inizio alla fine. In che modo si può affrontare il Bari e magari tentare di portare a casa a qualche punto? Ma il modo lo decide il mister. Noi ci proveremo fino alla fine. Proveremo a fare di tutto per portare i punti a casa. Liberato. Possiamo dire che da Marotta è finito e con Marotta si ricomincia perché domenica si prevede molto probabilmente un tuo ritorno in campo visto le defezioni di De Franco che è poi avanti. Sì, sfortunatamente per i miei compagni di reparto che hanno avuto questo infortunio, però sì, diciamo che dovrebbe essere il mio rientro. Vediamo un po' la situazione come va a finire nei prossimi giorni e vediamo al mister se mi riterrà arruolabile. Abbiamo visto qualche minuto giocato nella scorsa stagione e nel finale, qualche spezzone di amichevoli in estate, poi zero minuto in campionato. Soprattutto la domanda principale è come stai? No, io sicuramente sto bene sin dal ritiro, però giustamente sono decisioni che prende l'allenatore e si vede che fino adesso non è ritenuto opportuno farmi giocare. Anche perché comunque i miei compagni di reparto stavano abbastanza bene. Con quale mentalità si va a Bari dopo la sconfitta di Ascoli per portare qualche punto a casa? Sicuramente di non fare gli stessi errori che ci sono stati domenica scorsa. Magari con un po' di applicazione in più, un po' di determinazione in più faremo una buona gara.